ciao ragazzi previsione del negozio oggetti o comunque dei prossimi cosmetici che usciranno su fortnite nello shop per vedere anche un po insieme come sarà l'evento di domani e per rispondere ad alcune domande che mi fate sotto i commenti like mi raccomando per supportare il canale codice creatore vander-creepy sempre attivo raga continuate a mandarmi le shoppate perché si stanno andando alla grande così allora cominciamo subito con la prima domanda che c'è qua sotto i commenti la speranza cioè no la speranza quando è che torna Goku comunque Dragon Ball allora Dragon Ball non è mai stato intanto una sezione che frequente nei negozi oggetti è sempre stata una collaborazione che usciva una volta season più o meno una roba del genere ora è circa due mesi tre mesi che manca io però la stagione questa qui non la conterei come stagione normale credo che abbiano fatto uscire solo cosmetici a tema tra l'altro in quella prima c'era di mezzo Halloween hanno fatto uscire anche lì cosmetici a tema aspetterai il prossimo il prossimo mese quindi domani già da domani e per vedere cosa se potrebbe tornare però però c'era sempre un però poi ne parleremo credo che Dragon Ball salterà anche la prossima la prossima stagione o comunque il mese di dicembre poi se ne riparlerà magari nel prossimo aggiornamento non quello di dell'uno ma il prossimo che dovrebbe essere il 15 dicembre che poi aggiungeranno anche le sfide di Natale poi l'altra domanda che mi fate sotto i commenti è se conviene prendere Juice WORD raga non lo so però fatto sta che chi è riuscito a shopparlo la prima mezz'ora di ieri all'uscita quindi dall'uno all'uno e mezza riceverà in regalo l'emote perché nel bundle nella raffigurazione insomma c'era presente anche l'emote in realtà è stato un errore perché il bundle prevedeva soltanto due tracce gem non anche il balletto quindi hanno tolto adesso l'emote chi compra il bundle adesso 2006 non ha l'emote ma soltanto le due tracce la chitarra lo zenetto l'avrà per la skin e quindi un po' una mezza scammata anche questa di Epic però chi è riuscito a prenderlo in anticipo prima di tutti raga all'uscita riceverà presto anche l'emote se non l'ha già ricevuta deve essere decriptata comunque finché non è decriptata non non la riceverà nessuno poi la solita domanda è colpo di freddo quando è che esce secondo me nel mese di dicembre potrebbe tornare o con l'armadietto di clicks mi sembra oppure come piccone nella sezione dei picconi poi l'altra domanda solito domandone è quando è che esce Harley Quinn o la batosta di Harley Quinn o le skin DC come Catwoman secondo me anche qui nel mese di dicembre potrebbero tornare mancano da 11 mesi quindi neanche un anno tra poco un anno e quindi secondo me faranno un anniversario le faranno tornare tra l'altro nel gioco nel negozio oggetti di Rocket League sempre Epic Game stanno uscendo stanno proponendo le Batmobili quindi insomma un indizio da non sottovalutare poi l'altro domandone epico raga è quando è se è vero e quando è che tornerà Travis Scott allora qua ci sono due indizi il primo è che quando sono trapelati i primi leaks dell'evento finale si intravedeva una mezza rotaia nell'evento simbolo diciamo tra virgolette dell'Astro World Festival del concerto di Travis Scott però l'altra l'altra bomba raga che è uscita stamattina sono uscite fuori le canzoni dell'evento di domani saranno una due tre quattro cinque sei sette otto canzoni dureranno 14 minuti fatto sta che la terz'ultima canzone High Spice featuring Travis Scott quindi bisognerà vedere come sarà composto il concerto quando canterà quella canzone se la parte di Travis Scott verrà cantata da chi se magari sarà una roba soltanto magari la parte di High Spice lo scopriremo comunque domani raga ma la possibilità di vedere tornare Travis Scott c'è non è sicuro raga se volete la mia opinione comunque resta no c'è anche una canzone con Eminem e Rihanna quindi a questo punto uno dice vabbè allora esce anche Rihanna e secondo me faranno cantata soltanto la parte dei cantati magari soltanto i ritornelli anche perché abbiamo detto che sono otto canzoni 13 minuti sono un po' pochi per otto canzoni però raga la possibilità di vederlo effettivamente c'è perché comunque sta là l'altra cosa l'altra domanda che mi fate invece sono le schede di Naruto la prossima stagione sarà a tema samurai abbiamo già visto qualche anticipazione vi metto il link qui se volete andarvela a guardare che non avete visto se non volete sapere spoiler raga mi raccomando non andate però tempo fa era stato aggiunto tutto la baradam di Naruto anche il deltaplano quello che si sbloccava gratuitamente la stagione a tema samurai Naruto insomma sappiamo che è un ninja samurai comunque in quel mondo lì ci entra alla grande quindi ci dovrebbe tornare appunto in questa season qua poi l'ultima roba a chi interessa fortnite festival quindi che ora si chiama fortnite musica le new jeans dovrebbero essere le prossime cantanti raga in realtà su questa faccenda non si sa bene loro hanno rotto con la loro etichetta hanno però detto che le loro collaborazioni andranno avanti gli impegni che hanno preso non verranno interrotti quindi di star tranquilli non so se era sottointeso anche fortnite se poi è vera la voce che le vede arrivare nel prossimo pass musica chiamiamolo così ci fermiamo qui raga staremo a vedere comunque non mi ricordo se finisce a dicembre o a gennaio comunque ci fermiamo qui like se non l'avete messo subito mi raccomando codice creatore sempre attivo se lo usate raga taggatemi ciao